Ammontano a 161.975.000 euro i crediti incagliati generati dai lavori del Superbonus svolti dalle imprese edili teramane iscritte alla Cassa Edile. I cantieri del Superbonus in provincia di Teramo ad oggi sono 737. Per un controvalore dei lavori pare 1 miliardo e 7 milioni di euro. Per sbloccare l'impasso dovuto ai crediti immobilizzati, in soccorso del lancio Teramo corre Confindustria, con un accordo che sarà presentato il 28 febbraio al Blue Palace di Mosciano Sant'Angelo, che prevede la cessione dei crediti fiscali derivanti dei bonus edilizi alle imprese associate all'Unione Industriale. Per cercare di derimere questa problematica, che ormai è diventata molto pesante per le imprese di costruzione, abbiamo pensato insieme a Confindustria di creare una sorta di borsina tra l'offerta e la domanda. Cioè noi abbiamo i cassetti pieni potremmo cedere, loro hanno capienza fiscale per poter detrare con gli F24 i crediti e allora si deve creare questo, chiamiamolo così, tra virgolette borsino, tra la domanda e l'offerta. Noi offriremo e loro lo possono prendere per cercare di sbloccare questo meccanismo che adesso è all'impasse. Quali imprese potrebbero, per così dire, aderire a questo sistema? Diciamo imprese che innanzitutto siano finanziariamente e patrimonialmente solide. Ovviamente questo non può essere chiesto a imprese che stanno ancora soffrendo di tutta la congiuntura che abbiamo vissuto e continuano a vivere i giorni d'oggi, ma ci sono molte imprese che hanno questa condizione economica dove potrebbero in qualche modo far fronte a queste necessità di tutto il sistema edilizio. Si tratta del primo accordo del genere in Italia che molto probabilmente sarà replicato anche su scala nazionale. Sono circa 150 le imprese in sofferenza in tutto il territorio provinciale. Noi abbiamo stimato che abbiamo fermi 160 milioni incagliati da sbloccare e tenete conto anche dei lavori in corso che andranno a maturare altri crediti. Perciò la via d'uscita è urgentissima.